Non si capisce, non c'è riconoscenza, perché lui, proprio perché la squadra probabilmente è questa qui, è lui che è l'artefice che è riuscito a far nascere poi quella chimica dentro lo squadra, dentro lo spogliatoio, che gli ha determinato poi la vittoria del campionato l'anno scorso. Poterli anche abbinare senza dare la colpa a nessuno, ecco. Te li tieni e magari te l'assumi te la responsabilità. E invece succede così nel calcio, per cui io lo so, è una conferma che la porto come bagaglio di esperienza e mi dispiace per lui e visto che abita nella nostra città, se ci viene a trovare, se gli manca il calcio, se ci viene a trovare e sta con noi, sarà un piacere e ci insegnerà sicuramente le sue esperienze.